Il guardasigilli nordio in aula al Senato su un tema sempre scottante di attualità, quello della riforma della giustizia. Qual è la vostra posizione? Quella che credo abbia espresso in maniera magistrale il senatore Roberto Scarpinato nel suo intervento in cui ha messo in evidenza una doppia natura del ministro nordio e di conseguenza di questo governo. Un ministro che dice qualche settimana fa che le intercettazioni sui mafiosi non sono così importanti poiché a suo dire i mafiosi non parlano al telefono, salvo poi dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro a cambiare completamente opinione di fatto e dire esattamente l'opposto rispetto a quello che diceva qualche settimana prima. E quindi in qualche modo il senatore Scarpinato oggi ha un po' evidenziato questa doppia natura, questo dottor Jekyll e Mr. Hyde espressa dal ministro nordio. Io penso che sia un segnale piuttosto preoccupante che un governo in qualche modo vada ad aggredire uno strumento fondamentale come quello delle intercettazioni manifestando così una scusa legata alla privacy. Per quanto mi riguarda io non ho nessun problema di essere intercettato perché non ho nulla da nascondere, chi aggredisce le intercettazioni o ha qualcosa da nascondere o vuole proteggere qualcuno che ha qualcosa da nascondere. La crisi economica è tutt'altro che superata, anzi si inasprisce con l'inflazione galoppante, il tasso è quello del 1985 addirittura, poi c'è l'altro tema delle accise, insomma i cittadini più deboli sempre più vessati. Beh i dati economici sono decisamente preoccupanti, tra l'altro il fatto di uccidere o comunque di limitare molto manovre come quelle del Superbonus 110 che avevano creato 900.000 posti di lavoro vanno evidentemente in una direzione preoccupante anche dal punto di vista di quella che poi si è sempre chiamata disoccupazione ma che oggi questo governo chiama non occupabilità. Per quanto riguarda il tema delle accise credo che valga un po' quello che abbiamo detto prima per la questione di intercettazioni, cioè una parte del governo che prima delle elezioni dice qualcosa di chiaro, la stessa Premier Meloni aveva fatto insomma quel famoso video in cui di fatto prometteva e l'ho fatto anche nel programma di Fratelli d'Italia di eliminare, di abbattere le accise, in realtà poi quando va al governo non solo non abbatte le accise ma toglie anche lo sconto sulle accise che era stato inserito al governo Draghi facendo arrivare il costo della benzina veramente a livelli insopportabili. Negli ultimi tempi nella maggioranza spira aria di contrasti, di dissenzi, di mal di pancia sul CSM, sulle accise, su altre questioni. Lei come giudica questa situazione interna al governo Meloni? Lo giudico è un problema molto importante per la tenuta di questo governo che ricordiamo fin dalle primissime battute ha manifestato forti screzzi prima, tra i leader ancora prima di formare il governo, ricordiamo lo screzio piuttosto accentuato tra Meloni e Berlusconi quando Meloni diceva di non essere ricattabile, evidentemente è una cosa molto grave da dire rispetto ad un altro leader della tua coalizione, ricordiamo il forte dissidio che ci fu anche il giorno della scelta e della votazione del Presidente del Senato, dove due leader di fatto, poi il Presidente del Senato e un leader del centro-destra Berlusconi di fatto si sono mandati a quel paese in diretta nazionale e questa cosa prosegue ancora oggi, ad esempio con l'autonomia delle regioni sul tema della scuola dove il Ministro Calderoli dice una cosa e il Ministro Valditara ne dice un'altra e l'ultima, quella che citavo prima, c'è la differenza tra quello che ha detto ad esempio la Premier Meloni sulle intercettazioni dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro e quello che diceva un suo Ministro prima dell'arresto di Matteo Messina Denaro, Ministro che secondo me dovrebbe valutare anche l'ipotesi di dimettersi.